Ciao a tutti, sono Sara e ho scritto un pezzo ieri, una canzone che parla di questa situazione che stiamo tutti vivendo e avevo piacere a farvela sentire, anche perché vuole essere un po' un messaggio di speranza. Non sono una cantante, quindi chiedo scusi in anticipo a tutti i cantanti veri, però spero vi piaccia. Si chiama Se hai paura guardi i fiori. Solo adesso ci rendiamo conto che il tempo no, non è mai stato nostro, non è davvero nostro. Ma qui fuori per le strade che passa in silenzio, noi possiamo solo stare fermi a guardarlo. Scendo il buono in tutto questo, restiamo a casa per amarci meglio. E per capire che fa bene dirselo, che mi manchi, non vedo l'ora di rivederti. E se hai paura guarda i fiori come crescono, come sono coraggiosi anche davanti a tutto questo, perché stanno preparando lo scenario. Per noi che torneremo a camminare mano nella mano, dobbiamo abituarci ad aspettare, non è così male. Noi che corriamo sempre, non arriviamo mai. E se hai paura guarda i fiori come crescono. E se hai paura guarda i fiori come crescono. Come sono coraggiosi anche davanti a tutto questo, perché stanno preparando lo scenario. Per noi che torneremo a camminare mano nella mano. Noi che torneremo a camminare mano nella mano. Grazie a tutti